Quante e quali rotazioni, se ce le può dire, alcune proverà a fare domani contro il Malmo rispetto alla gara vinta contro il Genoa? Grazie Domani giocherà Perini in porta, Rugani rientra e giocherà, rientra l'Alexandro Poi domani mattina valuterò gli altri e Rabiot perché qui canta a me Adrian, quindi gioca anche lui E poi domani mattina valuterò gli altri Vediamo Ken come sta con la caviglia perché aveva preso un colpo ieri in allenamento Anzi domenica nella partita che abbiamo giocato E poi gli altri stanno più o meno tutti bene De Cilio è rientrato, spero di dargli un po' di minutaggio durante la partita E qualcuno riposerà e altri giocheranno Però è una partita da vincere perché comunque dobbiamo finire il giorno nel migliore dei modi E soprattutto per prepararsi al meglio per la partita di Venezia Antonio Barriera alla Stampa Volevo sapere se nell'ambito di questa rotazione c'è la possibilità di vedere anche qualche giovane Dell'Under 23, considerato che ci sono anche degli infortunati non previsti tipo Coluseschi Grazie Giusto, ma anche anche Coluseschi perché stamattina è stato operato E è andato tutto a posto Lo dovremmo avere a disposizione dal lunedì prossimo Per quanto riguarda l'Ade 23 sicuramente con noi saranno sia De Winter che Meretti Su lei non può giocare perché è solamente un anno e mezzo che è qui in Italia Quindi non può essere messo in lista B dei giovani E quindi vedremo se possiamo dare un po' di minutaggio anche a questi due ragazzi Che tra l'altro se lo meritano perché stanno facendo bene Un poveriggio, mister Giovanni Albanese Sport Italia Le chiedo se sta valutando anche l'ipotesi di Arthur Magari leggermente più avanti rispetto ai due mediani Grazie Arthur sta bene e c'è un'ipotesi che possa giocare Ora domani mattina valuteremo un po' come sta Can Perché comunque è un fuori Bernardeschi Non abbiamo esterni ruolo quindi vedremo se giocare con tre centrocampisti Con due vediamo un attimino domani mattina Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport Hai detto Bernardeschi? Fuori Bernardeschi adesso? No fuori Coluseschi No fuori Coluseschi solo Bernardeschi abbiamo Volevo chiederti invece di Di Bala In questo momento può avere anche lui bisogno di riposare O magari ha bisogno di giocare perché sta entrando comunque al top della forma E quindi magari mettere minuti gli fa solo bene Paolo sta bene quindi domani sarà a disposizione giocherà Non c'è bisogno di riposare Anche perché è stato parecchio fuori per l'infortunio Quindi in questo momento qui ha solo bisogno di giocare Buon pomeriggio mister Luca Cavalorti e Voredio Invece per quanto riguarda la difesa come sta Bonucci Ha recuperato pienamente rispetto alle tante energie spese Grazie Bonucci sta bene, i difensioni stanno tutti bene Come tutta la squadra devo dire la verità Quindi domani Bonucci potrà essere la partita ecco Hello mister Lai, Martin Petson Martin Petson, Tevo Sir Sweden Che cosa pensa della situazione di Kulusevski questa settimana Per cui magari pensa di venderlo a gennaio Per il mercato di gennaio non parlo perché Kulusevski è un giocatore della Viventus Oltretutto l'ultima partita ha giocato una buona partita Ha delle ottime potenzialità Dispiace che non sia a disposizione per questa settimana Ma bisognava decidere di intervenire Altrimenti le cose sarebbero più girate Più si andava avanti Quindi abbiamo deciso di fermarlo E sarà a disposizione nella prossima settimana Buongiorno mister Filippo Monsignor Corriere dello Sport Le chiedo se il quadro 2-3-1 che abbiamo visto nell'ultima uscita Può essere la strada tattica da qui in avanti Visto che anche Locatelli e Bentancur hanno avuto beneficio Soprattutto in mezzo al campo Grazie Diciamo che siamo più ordinati Ci dividiamo meglio per il campo Questo non è detto che andremo avanti tutta la stagione con questo sistema di gioco Anche perché dipende dalla disponibilità che ho dei giocatori Intanto domani è più difficile Perché domani non abbiamo esterni ruoli A parte Bernardeschi Quindi bisogna fare di necessità virtù Però in questo momento Ora bisogna pensare alla parte di domani E poi dopo vedremo da giovedì Che dobbiamo pensare alle ultime tre partite di campionato Buongiorno mister Sergio Baldini Tutto Sport C'è nato prima all'importanza della vittoria Per preparare anche Venezia Ecco al di là della classifica Perché non si sa mai cosa può succedere a San Pietroburgo Quanto è importante Un'altra vittoria Per mantenere il filotto iniziato Con il Genoa Con la Salernitana A mantenere il clima positivo e sereno È importante perché quando si vince si sta meglio Ci alleniamo meglio Siamo più sereni Facciamo questo lavoro E giochiamo E ci alleniamo Per vincere le partite E quando vinciamo le partite È una soddisfazione maggiore Soprattutto ti dà serenità Nel proseguo del lavoro Questa è la cosa più importante Buon pomeriggio Romeaggressicol.com Mister Giunti alle battute conclusive Della fase a girone della Champions Le chiedo Se c'è una squadra che l'ha impressionata Sia una favorita Per la vittoria finale In questa edizione Grazie Di questa edizione Ci sono C'è il Il Liverpool Il Bayern Il Manchester City Il Real Madrid Che comunque Io credo che queste sono le Le quattro favorite Più il Paris Saint Germain Credo che Ci sono cinque o stesse squadre Che sono Sopra il livello delle altre Mister Nicola Gallo Mediapason Tornando alla partita di domani Le insidie maggiori Quali saranno? Cioè si cerca un approccio giusto La gara Per cercare magari Di mettere pressione A chi è sull'altro campo Perché spesso Le gare più facili Questa squadra Le è un po' Non so se pesi sotto gamba Ma le l'ha sempre detto lei Cioè che è lì Che bisogna fare Questo salto in avanti In una gara Che all'apparenza Sembra più facile In questo girone Tra l'altro in un clima Che domani si prospetta Un pochettino complicato Non devi chiedere Non è che ci si danno le bombe Giocaremo anche sotto la neve Non è un problema Assolutamente Però l'importante È approcciare bene Alla partita Anche perché Deve essere una partita Dove ci dobbiamo divertire Giocare e vincere Perché altrimenti Corriamo lo stesso Ci arrabbiamo Le andiamo a rischio In controinfortuni E ammunizioni Invece domani Invece domani deve essere Una bella partita Una bella serata Con una bella vittoria Salve mister E stanno viaggiando E stanno viaggiando A una media Importante Impressionante Noi bisogna pensare A migliorare Quello che stiamo facendo A cercare di fare Delle altre vittorie Perché altre vittorie Derebbero l'autostima Crescerebbe l'autostima E poi vediamo Un passo Non possiamo pensare In questo momento Siamo indietro L'unica cosa Che possiamo fare È cercare di vincere Le più partite possibili Sperando che Quelle davanti Magari sbagliano Ma in questo momento Stanno sbagliando E stanno facendo molto bene Le ultime due Buongiorno mister Alberto Mauro Eccomi Messaggero Juventus News 24 Volevo chiederle Visto che la Ju Arriva da due Eliminazioni consecutive Agli ottavi di Champions Se secondo lei Si può fare meglio E quanto dipende Dal sorteggio Grazie Dipende dal sorteggio Ora non so se Possiamo fare meglio L'unica cosa So che c'è Per certo È che Dobbiamo Creare i presupposti Per fare meglio Questo è poco Ma sicuro In Champions A marzo È un'altra stagione Perché ci deve arrivare Con i giocatori In condizione Con tutti i giocatori A disposizione Quindi Ora Finiamo questo turno Di Champions Nel migliore dei modi Penseremo al campionato Per un paio di mesi E poi dopo a marzo Ci risufferemo Nella Champions Vedremo chi ci tocca E poi giocheremo Ultima Emanuele Gambe Repubblica Il tema Più o meno era questo Di cui volevo chiederti Tu sei sempre stato Molto fatalista Sui sorteggi Voglio chiedere se Invece nel caso specifico Vedi una differenza sostanziale Fra essere primo E essere secondo Oppure In nome del tuo fatalismo Dici Succede Qualche succede E poi vediamo cosa capita A parte Non si sa ancora A parte Credo il Bayern Monaco E il E il Liverpool Poi le altre Le altre squadre Sono tutte El City Scusa Sono tre Che sono Praticamente Le tre candidate Insieme a Real Madrid E al PSG A vincere La Champions Poi ci vuole fortuna Quando tirano sulla pallina Magari arrivi primo E becchi il Paris Saint Germain E poi dipende Cioè ci sono troppe combinazioni Che fanno sì Che quindi non si può sapere L'importante è per il passato il turno Poi vediamo chi Che becchiamo alle ottavi Grazie a tutti Grazie e buona giornata